La Coppa la dedico in primis al presidente del Corato, che ha fatto tanti sforzi per far sì che questo progetto continuasse. L'anno scorso aveva deciso di lasciare, poi quest'anno invece è ripartito quasi solo e più forte di prima. Una tappa importante raggiunta, una tappa mai raggiunta per il Corato calcio in eccellenza. Non aveva mai vinto finora una Coppa Italia regionale. Ora speriamo di proseguire nella competizione senza tralasciare il campionato. Più passano le giornate, meno diventano le partite da disputare. Vedo una classifica a due tra Molfetta e Corato e le inseguitrici usciranno fuori dalla griglia playoff.